In due anni e mezzo in questa città ci saranno investimenti per oltre 100 milioni di euro, compresi le opere compensative, ma sono veramente tante che porteranno benefici alla città. Capace, seria, giusta. È una città che va al massimo, quella del sindaco di Fano Seri che ha scelto un nuovo slogan per definire l'attività dell'amministrazione comunale. A due giorni dalla fine dell'anno il primo cittadino ha tracciato un bilancio sul lavoro svolto dal suo insediamento ad oggi e per farlo ha scelto i locali del Club Anziani di Sassogna come dimostrazione dell'attenzione al tema dell'erosione della costa. Sono risultati straordinari. Io penso che sia la prima volta che un sindaco con un'amministrazione alla conferenza stampa di Finiano presenti un libro con tutte le cose fatte nel 2015. Siamo partiti da una città con strade colabrodo, ha detto, con strutture pubbliche fatiscenti e cimiteri degradati. Nonostante il patto di stabilità e i tagli ingenti subiti fino al mese di aprile, Seri è soddisfatto degli obiettivi raggiunti che oggi non ha esitato ad elencare. Mi hanno detto quando sono stato eletto, scherzando, sindaco, se riesce a portare a termine la questione del porto, della difesa della costa, dell'interquartile, l'opere compensative, lei ha finito il mandato. Allora oggi, scherzando, potrei già alzarmi perché queste cose le ho portate a termine. Il porto, ha detto, ha avuto una risposta che non ha uguali nella storia di Fano, con un tragaggio di 35.000 metri cubi di fanghi. Per le scogliere poi, la settimana scorsa, sono stati affidati i lavori per 3 milioni di euro ad una ditta siciliana che ha vinto la gara. L'interquartiere sarà pronta entro maggio 2016, anno in cui partiranno anche i cantieri per le opere accessorie della terza corsiena 14. Oltre a questi, il sindaco ha ricordato lo smaltimento dell'amianto negli edifici pubblici, gli interventi per la messa in sicurezza di Rio Crinaccio e di altri fossi, la nuova centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria, l'ufficio Europa, i lavori nelle scuole, il cinema all'aperto, le telecamere di video sorveglianza, la stazione ferroviaria e nelle isole ecologiche. Ha citato inoltre il nuovo impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo, l'acquisizione dell'area dell'aeroporto, i 16 bandi per gli impianti comunali, i rapporti recuperati con le città gemellate, gli eccellenti risultati ottenuti per la raccolta differenziata e l'Oscar del bilancio per la trasparenza. Il 2016 sarà invece l'anno dei grandi progetti, con interventi per 16 milioni di euro. È previsto l'inizio dei lavori per la scuola di Cucurano Carrara, la fusione delle aseti, il prolungamento degli scolmatori di via Leorgeri, la riqualificazione della Darsena Borghese, di via Garibaldi e dei quartieri cittadini, ma anche la vasca di prima pioggia all'Arzilla, l'aumento delle piste ciclabili e soprattutto un'importante manutenzione delle strade con 4 milioni di euro di investimento. A tal proposito è partito il bando per il nuovo mezzo che servirà ad asfaltare 70 chilometri di strade di campagna. Portare in questa città investimenti così importanti, io penso non tutti sarebbero stati capaci, per cui veramente sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi e sono altrettanto convinto, e la gente lo vedrà, che il 2016 sarà un anno ancora più importante.